Io a questo percorso darei un voto 10 perché comunque sono partito da uno stato emotivo molto particolare perché stavo veramente giù e ora invece come vedete sono sorridente, sono contento per varie cose che mi sono successe da quando ho iniziato il master. Frequento l'ingegneria meccanica verso l'università della Sapienza a Roma e prima del master studiavo con il solito leggi e ripeti, anzi in realtà leggevo e basta, facevo qualche esercizio. Prima del master mi sentivo molto spesato, mi sono reso conto ultimamente che ero veramente addormentato. Ero un solito studente che si sentiva sveglio ma quando in realtà non era effettivamente così perché poi il master mi ha permesso di sviluppare alcune competenze veramente molto utili in realtà e mi ha fatto sentire un ragazzo più libero magari, un ragazzo che come vuole crescere in realtà ha la capacità di farlo, ha le potenzialità per farlo e tutto dipende da come si approccia perché tutto viene dal dentro, l'esterno è il riflesso di ciò che abbiamo dentro. L'università ora la vivo in maniera totalmente tranquilla rispetto a prima che magari, prima del master, mi sentivo veramente giù emotivamente, mi sono sentito davvero male perché mi sentivo impotente. Prima del master diciamo io non ho avuto tanti dubbi perché avevo talmente voglia di cambiare la mia situazione che non ho tanto ragionato su quali potessero essere i problemi in realtà, quindi non ho avuto quei problemi da risolvere perché avevo già deciso sulla strada che volevo intraprendere in realtà perché mi fidavo, io sono un ragazzo che si fida molto delle persone e in questa cosa può essere sia un bene che un male in realtà, però in questa cosa è stato veramente un bene. E i miei genitori in realtà si fidano molto di me, hanno fiducia delle scelte che prendo, quindi anche loro in realtà forse sì erano un po' scettici ma in realtà il significato di parola scetticismo è mancanza di informazioni. Però per fortuna ho delle persone accanto a me che sanno quello che ho passato in generale e quindi sanno che io voglio affrontare davvero il problema e mi hanno dato la mano per risolverlo diciamo. E quindi ora sono contento diciamo perché mi vedono che sono emotivamente felice e io a questo percorso darei voto 10 perché comunque sono partito da uno stato emotivo molto particolare perché stavo veramente giù e ora invece come vedete sono sorridente, sono contento per varie cose che mi sono successe da quando ho iniziato il master. E ovviamente vorrei ringraziare Giuseppe e Andrea per aver creato questo percorso straordinario, tutti diciamo quelli che stanno sotto a questo progetto perché è veramente un qualcosa di grandissima qualità. Grazie a tutti.